Si chiamava Piazza Forte, aveva un perimetro più ampio di quella che oggi viene conosciuta come Pescara Vecchia ed era il cuore pulsante della città nel 1500. Una vera e propria Roccaforte, una delle prime strutture difensive del Regno delle Due Sicilie ma anche centro di traffici e abitata dai pescaresi, fino all'unità d'Italia quando fu abbattuta. Ora, su impulso di Licio Di Biase, il consigliere delegato al recupero del patrimonio storico della città, ecco il progetto Pescara Real Piazza, teso a riscoprire l'identità storica di questa Piazza Forte attraverso una serie di iniziative e la costituzione di un apposito comitato. Noi abbiamo un centro storico con due piazze e tre strade, però avevamo una Piazza Forte che aveva un perimetro più vasto, da Via Conte di Ruvo a Via Conte del Forte, dal Ponte di Sorgimento alla linea ferroviaria. Noi vogliamo rendere riconoscibile questa area innanzitutto, poi all'interno di questa area vogliamo rendere visibili e riconoscibili tutti gli elementi storici e culturali che ci sono e in più ci impegneremo per cercare di tirare fuori quei pezzi di mura della Piazza Forte che sono ancora recuperabili, magari soprattutto sotto il rilevato della vecchia ferrovia. Abbiamo istituito un tavolo tecnico che coagliorà, io come consigliere delegato, alla valorizzazione del patrimonio della città, di cui fanno parte figure istituzionali molto importanti, rappresentanti della sovrintendenza e beni paesaggistici, beni archeologici, la facoltà di architettura, ferrovie, biblioteca provinciale, archeoclub e museo delle genti. Insomma, Pescara non è solo città moderna, giovane e senza storia, un falso storico da correggere. Quella che poi oggi se sarebbe rimasta in vita sicuramente avrebbe dato la dimensione di una Pescara importante sotto aspetto storico. Oggi tutti sbagliano dicendo che Pescara è una città giovane quando Pescara è la più antica città d'Abruzzo. Questo chiaramente non lo dico io, lo dicono i documenti. L'Aquila è del 1200, nasce da Angioina, Pescara è un porto romano nel primo secolo dopo Cristo, più o meno parallelamente la vicenda storica vive con grande parallelismo rispetto a Chieti, a Teate.